Il parco del Condellis è nato ormai da parecchi anni, non senza qualche ostilità e apprezzione da parte della comunità, che vedeva il parco un po' come un vincolo, una limitazione. Attualmente il parco viene vissuto in maniera diversa perché effettivamente si sono scoperte le potenzialità che questo parco offre. Nel parco del Condellis ci sono due perle, una è una perla legata alla flora, infatti nel parco fiorisce nel mese di maggio una specie endemica che è l'euforbia gibelliana e poi ci sono alcune delle rocce più antiche della terra che sono appunto le peridotiti. Attualmente il parco è favorito anche dal punto di vista della conoscenza dal comitato resistenza del Condellis che ogni anno porta sul colle circa 3.000 ragazzi delle scuole. Forse da parte della comunità c'è una limitazione che oggi viene vissuta con qualche difficoltà, specialmente da parte di chi ha fatto delle ottime ristrutturazioni di alcune baite. La strada che percorre il parco è infatti vincolata ai sensi della legge regionale 45. Tuttavia il fatto che il parco abbia un ingresso limitato sicuramente ne favorisce la protezione e la tutela. Da qualche anno è nata l'Unione Montana-Alpigraie che unisce i comuni di Viu e Rubiana che sono confinanti e una delle ragioni per cui questa unione è nata è proprio quella di favorire una gestione unitaria del Coldellis.